Sono insieme a Marco Columbro e Marco Imperato. Due volti noti perché? Marco Columbro è conosciuto il grande pubblico per la sua attività televisiva, ma forse non tutti sanno che è anche un affezionato al mondo del biologico. Da quando? Dagli anni 70, quindi sono più di 30 anni che mi occupo di prodotti biologici. Siamo qua al Sane insieme a Marco Imperato, che è il nostro amministratore delegato di questa nuova società che si chiama Mio Italy, Organic per l'estero e Mio Italy Bio per l'Italia. Nel senso che noi abbiamo scelto l'eccellenza dei prodotti biologici italiani, il top che abbiamo in Italia, per esportarli all'estero. Malesia, Stati Uniti, America Latina e quant'altro, oltre che nei negozi in Italia, che hanno la distribuzione e negozi top. Quindi vogliamo portare l'eccellenza a conoscenza non solo degli italiani, ma anche del mondo. Ecco, al Sane c'è proprio l'opportunità di avvicinarsi al mondo del biologico ed è anche un mondo che i numeri dicono andare contro la crisi, cioè sono numeri in crescita. Quindi le persone si stanno sempre più avvicinando. Secondo lei per quale motivo? Il motivo è semplice. Basta parlare con un medico e ti dice continuamente che i bambini nascono, a pochi mesi hanno già intorrenanze al latte piuttosto che ad altre cose. Le intorrenanze aumentano sempre più perché diminuisce purtroppo quella che è la nostra capacità immunitaria. E allora il nostro immunitario è indebolito da tutto un sistema di vita sbagliato. In primis gli alimenti che sono troppo industriali, troppo lavorati, con chimica dentro e questo fa sì che il nostro corpo non regga queste schifezze che noi ci mettiamo al nostro corpo. Allora ecco che in questi ultimi anni di crisi, parlo degli ultimi 3-4 anni, i dati dicono che il convenzionale è diminuito tantissimo come vendite. Fai conto che la grande istituzione ha perso un 35% di vendite. Mentre il biologico nell'evento è aumentato in un 13%. Vuol dire che il consumatore ha preso coscienza, consapevolezza che bisogna comprare meno ma mangiare meglio. Mangiare cose di qualità. E noi è quello che diamo con Mio Italy. Mio Italy vuole essere il marchio riconoscibile come il top della qualità del biologico. E qui al Sana ha trovato qualcosa di curioso, di interessante. Cosa ne pensa di questa manifestazione bolognese? Beh, io il Sana lo frequento da quando è nato, oggi è il 25esimo anno, quest'anno. Quindi io sono nato con il Sana nel senso biologico, nel senso che mi occupavo già di biologico e mi chiamò Rossi, che è il creatore del Sana, per aiutarlo a sviluppare a livello di marketing la sua fiera. E quindi qua trovi di tutto, dalla carne vegetale per esempio, che è un'innovazione, al caffè verde. Cioè tutte quelle innovazioni che sono in campo di cibo biologico le trovi al Sana. Ed è importante venire al Sana per conoscere e approfondire le tematiche che oggi il biologico può offrire al consumatore. Approfondiamo invece con Marco Imperato. Quali sono i prodotti italiani? Perché qua incrociamo tantissimi prodotti, tantissime persone in tanti paesi del mondo. Voi però fate in modo che il biologico buono italiano vada in giro per il mondo, giusto? Assolutamente sì. Cioè il nostro obiettivo, ovviamente siamo qua a fare il recruiting, cioè cerchiamo le aziende che producono l'eccellenza del biologico italiano. Il nostro obiettivo è proprio quello di cercare prodotti mediterranei, classici, impaste, sughi, conserve, da esportare nel mondo e soprattutto in un momento dove comunque il made in Italy food è richiestissimo. Abbiamo un focus in questo momento sull'Asia, sul Sud America, sugli Stati Uniti. Noi abbiamo la fortuna di avere un prodotto d'eccellenza. Dobbiamo solo cercare di esportarlo con le migliaia di aziende che ci sono e che in qualche modo consolidano questo prodotto. Sui mercati asiatici in particolare quali sono i prodotti italiani che piacciono di più? Innanzitutto quelli classici, quindi pasta, sughi e conserve vanno per la maggiore. Adesso siamo riduci da una fiera che abbiamo fatto a Kuala Lampuri in Malesia che per noi era un mercato nuovo ed emergente. Sono quelli che ci hanno richiesto di più ma anche cose un po' più particolari. Adesso stiamo lanciando una nuova linea di perle di aceto balsamico di Modena DOP dove in qualche modo vengono usate banalmente sulle insalate oppure prodotti in inicchia, prodotti particolari. Comunque i prodotti classici sono quelli che vanno per la maggiore. Pesti, sughi, paste sono insomma il nostro fiore all'occhiello. E quanto è importante fare anche capire il biologico del vero made in Italy? Perché in giro per il mondo ci sono tanti prodotti che si spacciano per italiani ma che in realtà non sono. Questo si scopre tutti i giorni. Quanto è importante invece fare sapere che esiste del cibo italiano buono, biologico e salutare quindi? Ma è assolutamente molto importante, è assolutamente la nostra mission. Noi mettiamo sotto il cappello Mio Italy proprio l'eccellenza del cibo italiano quindi la garanzia di qualità. Siamo ovviamente per definizione certificati abbiamo la volontà di in qualche modo di dare un timbro al prodotto biologico proprio da esportare nel mondo. Marco sono 30 anni che si occupa di questo e ovviamente ha la sensibilità nel capire quali sono le aziende che in qualche modo danno più possibilità, più respiro e la possibilità di divulgare questo verbo. Grazie. Grazie. Grazie.